Anni, la consagrazione stasera porta a casa e va dentro. E... vabbè... ...e' un'ordine... ...e' un'ordine di sottotitette e tanti loro non ce l'avano vittime, un'ordine di scuola e tutto sono stato, mi sento già due giorni, hanno avuto la notizia, il gusto del questo, e sicuramente ha detto tutto in maniera molto sfuggiosa, quindi penso che non l'hanno fatto tutto questo. Poi, ringrazio Soltronia, perché lei era messa dall'accesso di Orzoni per la vita, non è che avevano insegnanti a Sudo e perché lei, insieme mia mamma, mi ha insegnato a guardare il ritrovo svolto di un rischio. Mi ringrazio Soltronia, perché mi ha accostato a Veccivoli, ringrazio tutti, ringrazio perché mi hanno già aiutato alla collocazione un'altra settimana fa, però se non faccio un nome solo senza raggiungere altro, tutti capiremo, ringrazio Soltronia. Ringrazio Angelo per tutta la possibilità di ammigliare, anche come sempre, ringrazio soprattutto per i consorelli che sono arrivati da lontano. vienerne ma è di averAKN, quindi abbiamo messo tutti da questi mangi. Andiamo insomma. Grazie alle persone. In ringraziamento particolare, speciale, specializzate, a Carla, perché noi ci siamo supportate, Abbiamo lavorato così insieme. Colleghe telecreditiste con Tantina, Rosa, Napierita, Tina, Percecina, tutte in Pina, poi lì a Zorcina, l'altra che mi supporta e mi sopporta. Sono stata importantissima del vedere anche il processo corretto in mano. Non c'è l'unico. No? Ok. Ma questo è un concilio che mi lascia. Però se non ho, perché tante volte non ho impugnato per la programmazione, ci usciremo. E penso che qui non ripensate molto a tutti. Anche chi non ha istaggia la partita alla Tantina, che non ha un'artista, non lo so. Mi chiamo, non ha un'artista, non ha un'artista, non ha un'artista, non ha un'artista. Non mi chiamo, che non mi chiamano, che non mi chiamano. E ci sono un concilio che mi chiamano, che non ci dà, non ci dà, non ci dà. E ci sono altri, non c'è. Grazie a tutti gli studenti, voglio ringraziare il gelato, il mio corso, il mio corso del gelatina che ritorna per un gioco a provare e abbiamo una fotocamicella del profumo a una mamma celata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.